Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su Madison Beh, eravamo rimasti in questa zona con tutte le porte chiuse, belle rosse Dovrei cercare di uscire, siamo tipo in un sogno E vediamo, potrò fotografare qualcosa qui in giro forse per riuscire ad uscire Anche se fotografando le porte mi sembra che non cambia assolutamente niente Forse le posso fotografare tutte Finché non trovo quella giusta E infatti era questa qui, quella giusta Che mi fa tornare nel mio scantinato Eh beh, grazie Sono tornato qui, e adesso è chiusa Però ho recuperato questa scatola qui, arrugginita, devo riuscire a scoprire come aprirla Madison, sei qui da qualche parte nel mio scantinato? Ah, si è pure rotta la lampadina Va bene No, non si fa Stia buono, me l'ha anche riparata la lampadina Un po' male però almeno funziona Vabbè, è la possessione demoniaca zio, stai tranquillo, non succede niente La soffitta Intende proprio che dobbiamo andare in soffitta Non so manco come però Se mi dai qualche consiglio potrei Apri il quaderno C'è una scala per una soffitta Dov'è questa scala? Proviamo a controllare su tutto il tetto Ah, eccola Madonna, non l'avrei mai vista Ciao Posso salire? Grande Let's go Tranquilli Chi ci sarà nella soffitta? Perché hai avuto questo mal di testa improvviso? Sei sicuro che non ti servono le pilloline? Magari sei completamente schizofrenico Veramente è una stanzina Devo portare qui un altro quadro Sì, ovviamente uno tondo E qui ci sono due tizi su una barca Che belli che siede Le tè è soltanto un numero Puoi aggiungerla e sottrarla Ma alla fine del giorno Quando arriva il tuo tempo Muori comunque Aggiungere e sottrarre? Oh, ci sono un botto di numeri qui In più c'è Dei pezzi di legno Non va niente qui E non si vede assolutamente niente Posso controllare però attraverso La porta 43 sì Non mi arriva nessuno, vero? Ok, grazie 43 Qui tra l'altro c'è anche un altro quadro Potrei prendere Ma c'ho troppa roba Forse devo mettere un altro quadro Al posto di questo E mettere questo quadro quadrato Da un'altra parte E così via Per esempio qui E infatti Ho messo via ben tre oggetti Quindi dovrei prendere questo C'è un punto interrogativo? Boh E dovrei poterlo mettere qui Così con bacia Che bello Gli altri quadri forse sono qui in giro Per esempio questo E anche questo è Quadrato Ma secondo me Ecco è più rombo Ritratto di diamante Giovanna 56 anni Vai qui Brava Brava Giovanna Brava Qui posso interagire con questo Aspe è una chiave Chiave a cuore Forse per la stanza dei nonni Dato che si amavano tantissimo no? Proviamo a vedere Ovviamente il nonno non era un traditore Stati zitto Quindi Madison alla fine è stata uccisa da Russell A 43 anni Va bene ecco perché Sopra c'era anche scritto 43 E la chiave per questo luogo? Sì Ci ho azzeccato I nonni Guarda quanto si amano i nonni Assolutamente non un matrimonio combinato Vero? Mmm Ancora tutti quei quadri Bellissimi E' questo che ti preoccupa? Ah speriamo Pillole Un botto Qui c'è altre pillole Perché erano malati di mente? Forse La madonna Ok forse si è un po' esagerato Qui dentro Ma cosa che cosa sia? La cataratta Mmm Ah ecco perché nelle foto c'ha gli occhi bianchi Ah non vedi te What are these things? Boh Sembrano delle foto Di qualche tipo Comunque a me servono quadri E non rimarrò qui troppo a lungo Mmm Interessante Oh Un altro medaglione? Aspetta qui c'è la terra E qui Giove Quindi devo metterli in ordine Questo qui è Urano E Nettuno Erano gli ultimi giusto? Quindi li dovrei mettere qui Poi c'ho Marte E Giupita Dovrebbe essere qui no? Però me ne manca un ultimo Che non ho Va bene Adesso controlliamo un po' meglio qui dentro Qui per esempio c'è un armadietto Con Un libro Dicono che avere un diario faccia bene Vediamo come mi va Sono andati a un mercatino Si è svegliata nel cuore della notte C'era qualcuno Nella fissa Ah vabbè Il demone Del sonno Tutti i gialli sparsi nella stanza La fede nuziale Dentro il lavandino Della cucina Ok Abbiamo dovuto portare Johnny nel nostro letto Ancora una volta Il libro che gli abbiamo comprato Gli causa solo incubi Dobbiamo ammettere che però Fa un po' paura Tutti i miei gialli Sono di nuovo fuori posto Non riesco più a trovare La mia fede A volte mi sento come se ci fosse Qualcun altro Che mi osserva ogni mio passo Che se ho levo Ho trovato l'anello Nella stanza di John Ovviamente non so cosa pensare Speravo di trovarlo Nel lavandino Forse questo anello è importante Proviamo a cercarlo Ah quando era C'era anche un altro messaggio Continuava a non riuscire a dormire I suoi occhi Stavano comunque peggiorando Era stanca delle medicine Non sopportava più il dolore E sapeva che c'era qualcuno in casa Ma nessuno le credeva Poi ha perso anche Fino all'80% della sua vista Il mio anello È di nuovo fuori posto Ma non importa Nessuno sarà in grado di trovarlo ora L'ho appena nascosto Sotto 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 cosa? I tappetini Ok Effettivamente sarebbe stato utile Leggere prima quel messaggio Controlliamo ovunque adesso Sotto cosa? Ah madonna Devo fare qualcosa anche qui? Perché avevo visto le foto per terra eh La porta sembra essere bloccata Cioè cos'è questa roba qui? Una specie di armadio? Sì sembra essere una porta bloccata E infatti è qui dietro Devo riuscire a togliere queste cose Ma forse È collegato al meccanismo Che è qui dentro Ah ho preso anche le foto O quel che sono Vecchie diapositive infatti Ok erano un altro item Quella canzone Un attimo è cambiato qualcosa dopo che ho preso le diapositive Qua è scomparsa la statua Anche nella foto non c'è Sono molto confuso Si è aperta la porta Ok Non farti domande Controlliamo che cosa c'è Come va? Come va? Sei tu a scappare da me adesso? Grande Oh mio dio Oh E questa stanza di chi è? Di papà Muto Che bella Sei bellissima Per favore non farmi del male La porta d'ingresso è bloccata dal pianoforte La statua ha deciso di bloccarmi qui dentro Te lo chiedi? Per me già sei impazzito da mo C'è un'altra zona qui Che cos'è quello? Eh guarda per sicurezza non mi avvicino Questo qui è un luogo dove forse posso mettere le diapositive Vediamo Oh Ok va Metti le diapositive Dovrei poterle vedere Eh guarda qui quante Che belline Sei tranquilla Statua E vediamo Posso iniziare a scorrerle Madonna c'èvano pure il divano qui Posevano farsi la mega stanza con le diapositive Dad Papà che cazzo hai fatto papà Eh tu dici? Eh allora provo ad andare per di qua eh Che cosa sei tu? Un disegno? No ok un altro orologio Ma sembra una persona Porca vacca Statemi buoni Oh C'era qualcosa là? Ma me ne frego Buon salve Qui c'è un altro dei quadri che devo prendere? Sì sì Ruba il quadro e basta C'è anche un'altra cassaforte Mmm Sono le ultime combinazioni Ti serve la combinazione? E qui c'è anche un'altra cassaforte Madonna quante Una combinazione era 5 a destra o sinistra? Nostro padre era un po' imbazzito Forse voleva ricontattare nostra madre E invece è finito per contattare Madison Genio lui Voleva parlare solo con lei Ci ha condannati alla merda Statevi buoni voi? Che succede? Oh la statua Ciao statua Faccio una fotina Ah ma è qui proprio Statua Crevo che fossi nella diapositiva Come va? Ti puoi star tranquillo tu per favore? No eh? Vabbè me ne vado ciao Quindi qui non c'è più la statua Ok E' scomparsa di nuovo Ma sta statua mi trolla Qui potrei fare una foto in teoria? Sì posso fare una foto Ah guarda C'è l'ultima cosa che mi serviva Grande Dammi tutto Grazie mille grazie mille Allora torno nella stanza dei miei genitori Chi è che sta usando il mio cesso? Non c'è nessuno Allora Solo Io Posso Fare Ciò che ha fatto mio padre Ovvero la cagata del 98 Un'altra videocassetta? Ferriamola Magari adesso la vado pure ad ascoltare Però intanto Torno nella stanza Dei genitori Quindi qui devo andare a mettere gli ultimi due Ignorante me mi devo ricordare Quali erano i pianeti Allora Mercurio è Venere? Mercurio era più vicino alla terra no? Intanto metti 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 Mh Ha funzionato? Ha funzionato Nice allora Dovrei poter togliere tutto con il martello Tac Non c'è nessuno vero? La statua mi lascia in pace spero Statua di merda E c'è là l'ultimo quadro Va bene Prendiamolo Oh madonna mi sono cagato in mano del martello È volante Dio madonna La cosa più inquadente di questo gioco Va bene Sei tranquillo Non succederà assolutamente niente Prendi sta fotina Oh C'è anche qualcos'altro qui dietro Ok Spero di no Magari è solamente vernice Che ne sa Statua Allora Mi lasci vivere in pace Oh Fammi uscire da qui Ma qui le pagano le bollette Porca vacca E ogni volta fliccherà la luce Posso mettere quest'altra cassetta intanto Me l'ascolti tutta Tac Va bene Sì sì Che schifo La vogliamo smettere di distruggere luci per favore Ma è un mostro quello lì Si torna indietro Nel cesto Al sicuro Il mondo cercano di risolvere Non finiscono Delle loro vita mortale Non finiscono I ficti di queste posizioni Sono subiettati a Un'esercizio 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 Per per la chiamata Un'esercizio La scena del crimine No non lo so Ho paura di quella roba Non si sa niente Però tu continui a parlare Non lo so Non lo so Molto probabile Soprattutto Cosa c'è qui in fondo Cos'era quella roba Fammi tornare nel bagno Il luogo più sicuro che c'è qui Non va È rotta No Deve essere qualcosa di brutto Allora Mi avvicino Mi avvicino Mi avvicino Se n'è andato Spero di sì Non lo so Però la statua è impossessata Torna su Torna su Torna su Vai a mettere sti quadri E viviamo felici e contenti Ok Mettiamo qui Il quadro tondiciante E lì quello esagonale E siamo tutti felici Ok Vero Ah salve statua Come va Mi sono girato un attimo E lei è venuta fin qui Che succede È venuta a darmi una mano Le faccio una fotina Grande Madonna Aspetta Mi vuoi dire che senza I quadri succede qualcosa C'è scritto Dieci Un attimo Ti rimetto un attimo Qui eh Fammi controllare anche gli altri luoghi Qui invece Ok Vedo che era proprio così C'è un trentotto Qui c'è Un Venticinque E dietro alla foto del bambino Ci sarà Un tredici Adesso qui il messaggio dice Le testo l'altro numero Devo aggiungere e sottrarre Forse se aggiungo e sottraggo Vari numeri insieme Posso ottenere qualcosa E nei muri c'è scritto Trentotto più tredici Cinquantuno Dieci più trentatré Quarantatré Effettivamente c'è un dieci Quindi lui ha trentatré anni Perché me lo ricordo Mi vuoi dire che se lo metto qui Arriviamo a quarantatré Lei invece ha sessantotto anni Sessantotto meno venticinque E fa quarantatré E quindi la dovrei mettere qui Così Adesso pensiamo agli altri due Credo che li devo semplicemente scambiare Anche questi altri Va bene proviamo Quindi metto qui la foto del bambino Tac E qui quella di statizia Funzionato Sembra di sì perché sento rumori strani Qui C'è una porta adesso C'è nessuno Ok ok Un po' cattivello Un po' cattivello Dai niente di che Niente di che Oddio Forse è allaggato Giusto un po' Non si vede però niente Sono cecato Vediamo Qui c'è Un accendino Oh sì Posso accenderlo Finalmente luce Mamma mia che bello E qui c'è un'altra porta Bella buia Accendi zi Non mi piace Oh Devo fare una foto Ah ok C'è un bel corridoio Posso controllare Anche con le foto Effettivamente Beh Sì bello lungo Bello lungo Iniziamo ad andare Non farti domande Oh ma qui è bagnato Chissà se siamo già In un altro incubo O se Questa è veramente La stanza Si sono fermate Non mi farò No Accenditi Non ti spegnere mai più Accendino di Non ti spegnere Oh salve Che cosa è quella Una foto Posso fargliela io La foto Ok Collezionabili rossi Era solamente un collezionabile Madonna sono proprio perso Non ti spegnere Dio madonna no Ah 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 Mi ho cagato le mutande Oh mio dio Non lo fare mai più Altra via Sinistra Ah no 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 Adesso se si spegne Io mi tolgo le cuffie Se si spegne Accendino Io mi ho detto Ok Ok va tutto bene C'è una caghetta In questo momento Perché non si vede niente A 5 cm dal mio naso Per favore niente Jamsker Ce ne so Troppe strade Un labirinto Sto posto Non ti spegnere Ti odio Ti odio Non ti spegnere mai più Se c'è un mostro Lo spavento prima io Ok non c'era nessuno Pucci pucci Lo seguo Lo seguo dai Va bene così Va bene così Non so dove si è andato Però adesso So dove è andato So dove è andato So dove è andato So dove è andato tantissimo Vieni qui maledetto Devo andare lì Dai 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 Ho i capelli davanti agli occhi Non vedo Tranquillo 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 Mi stavo sistemando la faccia Perché l'audio è buggato È stato bruttissimo Per fortuna l'ultimo jumpscare Non è stato troppo potente Era un pochettino distratto Crucifissione Massima Oh che bello Mi faccio una fotina Che belli Oh salve Bong Che è che suona le campane Ah ce l'ha messa Arrivo Preghiamo tutti insieme Mi sto caccando sotto Che cazzo La foglia mi ha fatto Venire un infarto Non lo so però i corvi mi piacciono Quindi in caso Buon per noi Alexis di Stefano Mi dispiace signor di Stefano Ma è giunta la sua ora Ah è proprio enorme la zona Però è chiusa Provo a seguire le campane Guarda Per di là Sento le campane Grazie per indicarmi la via Anche se sono un pochettino perso Ah ecco qui Verso le campane Ma secondo me Non lo è per niente Fra un po' ci spunta qualcuno E ci fa bubussette Hello hello Non mi uccidete per favore San Jupiter Catedral Va bene Si scende nelle tombe Sto per finire nelle catacombe Bon così Dai dai Ti stai solamente scavato la tomba da solo Non proprio scavato Ma ti ci stai infilando Che bello Infilarsi in una tomba Non lo so Se accendessi l'accendino Ah madonna E' proprio un loop Sei caduto Niente Rip te Sei caduto nel loop infinito Ormai Non c'è più niente da fare Comunque Si Il gioco è riuscito A farmi prendere Un paio di spaventi Lì nel labirinto E' stato molto brutto Osrei dire con le tue gambe Ho perso l'accendino però San Jupiter Catedral Chiude Forse anche per questo Che era tutto distrutto Sono però in una chiesa In questo momento Ma le belle le chiese Belle belle Posso fare una fotina alla chiesa? Bella Molto graffittata Vedo Qui ci sono passati Vandali 2022 Sì Chi è morto nel 2022? Nell'oscurità più totale Non si vede una ceppa di nulla Oh salve 1987 Buon per voi Facciamo una fotina Siamo finiti in un museo Che cosa è successo? Wow 1951 87 Roba varie Posso uscire? La chiesa magari è tornata Nell'anno 1987 Può essere? Una roba del genere Sarebbe figa Un attimo e devo tornare nell'oscurità Non si vede proprio una ceppa di niente Ok Oh salve Ma buon salve Sì mi sa che siamo veramente tornati nel passato E invece adesso sì Quindi quello lì era l'anno 2022 Bellini Che vita di merda Che schifo di angeli E vediamo Campane Tong dong Fall suonare Fatti due domande E datti due risposte Perché io non lo so Perché dovrei visitare il vostro Labirinto di arte biblica Vaffanculo Oh salve Mi è spuntata una candela dietro al culo Prendi prendi Con questa qui Ci faccio andare a fuoco La cattedrale E facciamo cosplay di Notre Dame Ah qui devo fare foto forse Bella per te Gesùs E anche per lei colore della pace Della vita E di tutto ciò che è bello Va bene torniamo indietro Se qui non c'è niente Io provo ad andare nel 51 Eh Madison Hale È morta nell'87 Posso scappare da qui? Grazie Vedo che c'è una porticina Via 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 Si corre Perché è diventata così la chiesa Pieno di Gesù È in un altro labirinto scusi Vabbè io vado verso Gesù È la salvezza Gesù Venga da me Gesùs Dov'è lei? Madonna cosa devo portare qui? Mmm Candele? Sembra di sì Una candela è andata Devo portarne magari altre due Tornerò qui più tardi allora Invece dall'altro lato C'è una luce rossa Molto più terrificante E che dà una sensazione Che mi sventreranno Ma ovviamente non sarà così Ci sarà solamente gente brava e buona Qui invece le direzioni Sono molte di più Credo che forse era questo qui Il labirinto Delle arti bibliche Quel che era No ok Dovrei poter tornare indietro Da qui? Grande, grandi Vediamo Posso anche interagire con questo no? Comunque è bellissimo Che il nome del gioco Madison Senza la i è Figlio Paz L'ho notato Durante l'editing Dello scorso episodio Bellissimo Figlio Paz Campanile Forse potrebbe essere utile Fare una foto a questo Adesso provo a tornare Nella stanza delle date Questa è quella data Dove già Madison era morta No? Forse posso andare nel 51 Bella Sono nel 51 Prendimi st'altra candela Un Vabbè Sempre la stessa roba E provo ad andare Di nuovo nella chiesa Tutto bene? Come si sta nel 51? C'è qualcuno qui dentro? Si confessi con me Non si preoccupi Dai Cosa hai fatto Nancy? Oh no Mi sa che pure lei era impossessata Ok Non so nemmeno di chi si stia parlando Ma Va bene Lo sapeva Lo sapeva Lo sapeva Palese Brava brava Fatti perseguitare Veramente non sto capendo niente Da Tre ore di gameplay Se la faceva con Hitler Zì Tutto ok La razza superiore No 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 Va bene Va bene Hai finito? Basta che non ti ammazzi Sì vabbè Hai iniziato a fare la preghiera Non mi interessa Venga il tuo regno Si è fatta la tua volontà Sì Proprio così Adesso qui devo rifare le foto Forse sì Ma sta continuando a ripetere la preghiera Ma la smetta La smetta Credo che non smetterà mai più Quindi provo a controllare qui Nel resto della chiesa Vedo ci sono ancora quelle due porte Che prima conducevano ai labirinti Effettivamente ci sono ancora i labirinti Forse adesso posso mettere un'altra candela Jesus Christ You are so beautiful Allora Eccomi tornato La candela che avevo messo prima Non c'è più Non credi dover trovare tre candele Per ogni mondo Porta No Questa qui me la tengo io E la porto nell'87 Ma qui c'è anche un altro tipo di corridoio Sì ma sono quattro corridoi Credevo che ce ne fossero solo tanto due Quindi è pieno di labirinti E qui c'è un'altra zona dove poter mettere altre candele Aspetta Tutte le candele blu nelle zone blu Quelle rosse in quelle rosse Gialle gialle Verde Verde Ok adesso ha più senso Però comunque vado a fare tutto quanto nell'87 Non rimango qui Ci vediamo zi Let's go back to 2022 Bene Tutto graffiti e distrutto Bellissimo Fatmi capire una cosetta Ah infatti qua già c'era un'altra candela Esatto Le devo trovare tutte E metterle tutte nel luogo giusto Non so se sarà una per stanza E devo metterla sotto al quadro giusto O se ne devo trovare tre per stanza Credo la prima Quindi torno nell'87 Ma ciao Stavo provando a controllare qui nella zona blu E infatti ho trovato anche la zona dove dover mettere la candela nella zona blu Forse controllando i vari quadri che ho fotografato Posso capire sta roba Quindi fammi controllare qui Ah vedi Ogni volta ho fatto la foto C'era Uno sfondo diverso Quindi la tizia qui è blu La tizia non è qui la tizia però Vedete ogni quadro ha una colorazione diversa Questo qui è tipo sul Ok Gesù è rosso Questo qui è verde La tizia è sul blu E questo qui è sul giallo Però qui nella zona del blu Non c'è la tizia Però ragazzi sapete una cosa Credo che potremmo capire un po' meglio questo puzzle dei quadri e delle candele Nel prossimo episodio Infatti Io spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi E noi ci vedremo al prossimo video Cercando anche di tornare nella nostra casa Quindi Ciao Ragazzi Ciao